Curiamo insieme le Charlie Page! Ho incontrato una Dunkis ed è finita male, adesso vi racconto tutto. Due giorni fa, sono andato al parco con mio fratello Zero Undici. C'era una bambina seduta sulla panchina che guardava TikTok. Avevo capito subito che era una Charlie Kid, si sentiva dal telefonino. Io ho detto, ma stai guardando Kaby Lame! E lei disse, Kaby Lame è una m***a! Io ho detto, stai serena bambina, ti ritroverai su TikTok. Mi ha tirato un sasso ed è scappata. Sono riuscito a trovare il suo account TikTok e ha pubblicato sta roba. Ed ecco che adesso partono le mal***e. Allora che Kaby Lame, faccio quel giove emotivo che contro i Dunkis fai sch***o. Tu giove emotivo, qualunque cosa tu sia, qualunque persona abbia fatto video contro Charlie o video contro noi Dunkis fai sch***o. E voi boys, voi Jeff Kids, pure persone che non adorano Charlie o che preferiscono Kaby Lame, dovete mu*****e.